Detto fatto, lo aveva annunciato la scorsa settimana il primo cittadino Catano De Luca a seguito di uno dei tanti blitz in città. La Villa Sabine è stata riaperta ieri al pubblico dopo essere stata chiusa dallo stesso De Luca per le condizioni di degrado in cui versava. Sono stati quindi effettuati e terminati tutti gli interventi di pulizia straordinaria e ripristinati dopo oltre dieci anni, i bagni. Secondo quanto dichiarato dal sindaco, i custodi dovrebbero essere ridotti da quattro a due e si occuperanno anche della pulizia quotidiana, della manutenzione ordinaria e della cura del verde. Catano De Luca lancia poi la sfida ai messinesi, vediamo quanto rimane pulita. La Villa Sabine infatti è stata ripulita da erbacce e soprattutto immondizie di ogni genere trovate all'interno del polmone verde dell'annunziata. Dai decespugliatori, altri tutelatore di legname, soffiatore, motoape, forbici, trattore, pale, zappe, motosega e tutta l'attrezzatura per poter garantire decoro e cura del verde. La villetta comunale in questione riaperta al pubblico meta di tanti messinesi che portano il proprio cana a passeggiare o che ci fanno jogging è stata intitolata al virologo polacco Albert Bruce Sabine, famoso per aver sviluppato il più diffuso vaccino contro la poliomielite.